secondo te può esistere un metodo per pulire a fondo il tuo hard disk non solo dai file temporanei ma da tutti quei file inutili che vengono accumulati da windows in varie cartelle senza utilizzare nessun programma esterno io dico di sì vediamolo insieme ti senti pronto iniziamo utilizzare questo programmino è davvero di una semplicità disarmante tutto quello che dobbiamo fare è andare in basso dove abbiamo l'icona di ricerca a forma di lente oppure la barra di ricerca cliccarci su e nel rigo di ricerca andare a digitare clean mgr vedrai che al primo posto ti comparirà l'icona della pulizia disco andiamo ad aprirla il nostro programma ci propone di ripulire fino a 1,35 giga di spazio per farlo dovremo selezionare tutte quante le caselle lui di base seleziona solamente le prime due quella relativa ai programmi scaricati e quella relativa i file temporanei di internet andiamo ad aggiungere anche le altre assicurati di non avere niente di importante nel cestino che vorresti recuperare e dopo averle selezionate vedrai che l'ammontare complessivo di spazio che sarà possibile liberare sarà corrispondente alla montare massimo segnalato dal programma 1,35 1,35 clicchiamo sul pulsante ok e confermiamo di voler rimuovere questi file attendiamo il termine dell'operazione che durerà solamente pochi secondi dopodiché avremo liberato lo spazio sulla nostra macchina e se sulla mia macchina che è una macchina di recentissima installazione sono stati liberati 1,35 giga sono certo che sulla tua ce ne saranno molti ma molti di più liberi al termine di questa operazione ecco fatto ti ringrazio per avermi seguito e fatto compagnia anche in questo video e come sempre non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima